sancio dove sei sancio che stasera chiude cacciomercato sancio è fatta è fatta per sancio è fatta è fatta ascolta a me copia i miei pronostici così stasera ti faccio fingere è fatta fallimento youtube giornalista è fatta è fatta sto gran maglio è fatto a peccato non è fatta ragazzi intenditori di caccia scommesse pronostici tutto comodo imparare parermel non non è fatta per sancio sfogo perché era fatta e non è fatto in mani si ha detto e cara juventus tu ti vuoi rafforzare troppo mi dispiace ma lo diamo a cezzi ma se lo vuoi vincere la champions ma quale campionato tu a voi vinceremo la champions una paura di champions scudetti ragazzi ora parliamo seriamente mi dispiace comunque voto che non è arrivato sancio mi dispiace perché ci pensavo che venisse ma io pensavo che giuntoni mi dava l'asso della manica nel senso che stasera prenderemo l'ultimo botto sarebbe un attaccante straniero così perché stavano tutti stranieri un attaccante ci voleva e sancio perché con sancio e un attaccante ragazzi il voto era 10 però purtroppo sancio è arrivato questo altro attaccante perché ripeto dopo vlauvi cimini che non mi dà garanzia io ripeto spero che vlauvi dura 80 partite perché sennò in attacco non abbiamo un cazzo o se non mettiamo a mangula mangula in attacco non lo so ragazzi ho fatto scherzo mancavamo un giorno avanti comunque voto del mercato su 8 va bene ci mettiamo in mezzo punto ci mettiamo in mezzo punto di molta 8 e mezzo voto caccia mercato verso 8 e mezzo perché ripeto il 9 potrebbe essere con sancio e l'attaccante deve essere 10 va bene ragazzi comunque va bene andiamo alle pronostici pronostici ragazzi seconda giornata no terza giornata di campione serie a le partite in vigore sono le seguenti bologna empoli fiorentina monza genoa verona inter atalanta gioca stasera juventus su e roma mamma mia su led di bala ci divertiremo lazio mila inghiomila perché non era scoppolata secondo me lecce caglie napoli palma ci sarà luca tu cazzo piccola squadra segnerà ma non lo so è fuori forma 800 kg quella quindi udinese como e venezia torino che giocheranno anche oggi venerdì quindi ragazzi allora senti battiti oggi secondo me non li giochiamo tu lo sai c'è la mia famosa il mio famoso 13 bisogna giocare sempre 13 euro quindi 10 euro la facile diciamo sulla carta e 3 euro un po difficile sapete che questo può stare il mio format il fattore 13 allora ripeto cominciamo pendolino mi raccomando io oggi mi sento di vincere quindi è meglio chiedere la copia ragazzi copia e che ti dà la soddisfazione se sbaglio chiederò scusa ragazzi va bene io chiedo sempre scusa perché sono un uomo e so chiedere scusa gli altri quelli che non fanno in datalanta allora questa mettiamo chi 3 euro comunque in datalanta venezia torino chi la vuole giocare dovrebbe essere x2 cioè l'ex allenatore torino è torino e va io con l'occhiale che parla renato zero è un grande allenatore il torino quest'anno farà benissimo ragazzi torino prenderà secondo me proprio andrà in zona potrebbe essere la cosa posso dire una cosa zona europa league zona europa league anzi potrebbe arrivare torino con la quinta posizione quest'anno anche zona champion vedi che ti dico perché c'era un grande allenatore il torino quest'anno mi sorprenderà quindi ci può stare anche un 2 però x2 la coprivo sarebbe bello però non la giochiamo non la giochiamo in datalanta 1 gas per risa raffischiato poi senza gruppo max lucuman l'inter vince ragazzi l'inter vince stasera 2 1 gol di turam va bene ma vince l'inter ma non la giochiamo la giochiamo con i 3 euro quella prima facciamo i 10 euro sì i miei 10 euro bologna e empoli giochiamo domani direttamente bologna e empoli 1 x 1 lecce cali non la giochiamo una partita difficile anche se chissà lo pareggio finisce lazio mila allora secondo me già fonzeca siamo ai titoli di coda perderà con la lazio io proveto un lazio 3 milan 1 scrivetillo però nella bolletta oschiettina metteremo 1 x non vince mila lazio ma su mici cupano mici cuotorino figuro di galazio 3 a 1 dico lazio napoli parma 1 il napoli secondo me anche se parma in forma però secondo me vincerà 2 a 1 secondo me entra lucazzo e segna sei contento napoletano piccola squadra e segna lucazzo scrivetillo entra nel secondo tempo e segna lucazzo 2 a 1 poi domenica primo settembre fiorentina monza anche se fiorentina è giocato però deve fare i punti 1 fiorentina monza 1 ken qui si segna la ken ken segna che di nuovo poi utinese gomo 1 1 a 0 utinese in casa è in arrestabile e andiamo ora 25 la prima di cupo megas caccio sciambana di bala sulle non toccheranno palla attenzione giuventus giuventus mangulà mangulà accetto vlaulic 1 a 0 attenzione mangulà e ti passi cupo megas 2 a 0 attenzione giuventus e danico gonzale nico gonzale spiti gonzale stop 3 a 0 quindi vlaulic cupo megas mangulà e nico gonzale 3 a 0 la juventus è a forza 3 per ora va bene scrivi dillo 3 a 0 e vinci 3 a 0 vinci vince e convince vincerà la juventus ragazzi quindi stop qui sono 1 2 3 4 5 6 partite allora bologna e empoli 1x lazio mina 1x napoli parma 1 fiorentina monza 1 juve roma 1 utinese gomo 1 ragazzi dovrebbe essere domenica dove che il banco perderà e che figura di stavolta il banco perderà andiamo alla bolletta dei 3 euro voglio giocare l'inde stasera inter atalanta già ma se mi fai perdere per scritto inter atalanta ti do fiducia perché l'atalanta è tutto ripeto senza lucumano quindi l'inde vince l'atalanta 1 bologna e empoli 1 lecce cagliari x lazio mina 1 napoli parma 1 e poi sono tutti 1 freddina monza genoa verona 1 grande genoa juve roma 1 utinese gomo 1 quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 partite 3 euro 1454,86 ragazzi e questa è la mia tendenza ripetiamo raccomando tu stop i video e poi lo fai inter atalanta 1 bologna e empoli 1 lecce cagliari x poi lazio mina 1 napoli parma 1 freddina monza 1 genoa verona 1 juve roma 1 utinese gomo 1 il mio culo 1 affangulo 1 1 1 1 1 ci saranno ci saranno pendolino siamo giusti? si ci saranno molti 1 vedrete questa sarà l'1 la tendenza dell'1 sarà capito? il pareggio lo vedo ripeto solo nel lecce cagliari che ci può stare un pareggio la capito? questi però quelle a freddina c'è da freddina un pochettino potrebbe essere ma a monza fuori casa non c'è niente ragazzi a freddina era proprio pareggio capito? quindi con venezia in casa capito? però si è stanca vero però deve vincere col monza capito? freddina monza poi palatino deve vincere con con la sua squadra ex squadra palatino vieni mi ha messo una cosa viola quindi genoa verona invece anche l'1 che genoa con l'inter è massacrata in verona è una squadra casalinga fuori casa non può fare niente 1 genoa ragazzi sono sono studiate le mie cose perché sono indirigente ma ripariamo indirigente detto questo copia in gol e vince ripeto voto cacciamercato do un otto e mezzo ma ripeto è otto perché su cussange era 9 con un altro attaccante era 10 ragazzi è facile metto il mezzo punto perché con il gioco scintillante il gioco dove si attacca prendiamo un po' un punto fisso attacchiamo con motta perché noi sconvinceremo la roma certo è la prova della verità vero è che abbiamo incontrato diciamo due squadrette che tutti che due squadre l'ha detto ora vediamo la prova del nome che va a roma ma io vamo a torino la roma senza attaccanti non mi fa paura sta a roma onestamente c'è veramente mi devo avere paura di di bala mezzo giocatore semi bottonate di sull'era mezzo giocatore sull'era mezzo giocatore quindi dico 3 a 0 perché la juventus per ora sta andando per inizia tre gol la juventus ricordate la juventus parterà ogni ogni partita 2 a 0 a salire perché la squadra è propensi all'attacco all'alambaggio miei provi attacchiamo sconvinciamo a magica capito a magica non c'è niente con la magica ma anche tanti amici romanici hanno detto quello venditti quello pezzo di meddola si sapeva quello di sabri c'era anche con venditola vergogna venditti roma 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 core d'esta città ripeto una volta sentivo le canzone di venditti non le sento pure io basta perché si è comportato male col di con la di sabri venditti pezzo di meddola unico grande amore e tante tanta gente ci ha fatto innamorata a magica magica ma ripeto a roma sta inguagliata veramente ragazzi l'avevo visto per ora proprio col suo furore col suo è accesa siamo accesi siamo entusiasti e accesi juve roma 3 a 0 a te studio ciao